Al primo piano del mercato civico di Carbonia trovi La salumeria di Pinto Sanarella Salumi, formaggi sardi e vini sfusi Tanti prodotti tipici da gustare tutti i giorni E qual è il contrario di fine? Principio Principio, qual è il principio fondamentale per preparare un buon provolto? Usare materie prime e fresche con sapienza e passione Benissimo, da qui la formula è E per S per F per G uguale N per S per N per G Energia per spostamento? Ma che è l'energia? E non te che a salumeria è spettacolosa, uguale Nessite la curva, bravo